Musica Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura una notizia che riguarda la strage, la strage avvenuta nella discoteca lanterna azzurra di Corinaldo in cui morirono sei persone schiacciate dalla calca. Sono circa 80 le parti civili ammesse, tra le quali anche la regione Marche, al processo, alla cosiddetta banda dello spray, escluse invece la Magic SRL, società di gestione del locale, i proprietari della struttura e il comune di Corinaldo. Lo ha deciso stamane il gruppo di Ancona, Paola Moscaroli, durante un'udienza con la procedura da remoto, almeno per gli avvocati di parte civile e per gli imputati. I primi erano collegati dai loro studi, mentre gli imputati dal carcere per le restrizioni anticontagio da coronavirus. In aula, nel tribunale di Ancona, c'erano solo il giudice, il cancelliere, i due PM titolari dell'indagine e gli avvocati degli imputati. Tutti con le mascherine. L'udienza è stata aggiornata l'11 giugno, quando su loro espressa richiesta verranno ascoltati gli imputati. Sei ragazzi della bassa modenese accusati della strage del 2018. Per i sei si procederà con il rito alternativo che prevede uno sconto di pena in caso di condanna. Adesso torniamo a parlare della fase 2, che ha previsto un allentamento delle misure anticontagio, perché oggi sono stati tanti i cittadini che ci hanno segnalato assembramenti sul lungomare di Fano. Di certo, la prossima settimana sarà decisiva una sorta di banco di prova, perché se continueremo a non rispettare le regole e se la curva dei contagi dovesse tornare a salire, le autorità saranno costrette a chiudere tutto. Francesco Salvago è andato a vedere appunto questa mattina qual era la situazione in zona Sassonia. Guardate. La fase di convivenza con il virus procede ormai da diversi giorni in diverse città italiane, così come a Fano. La fase 2 ha impartito tra la popolazione un nuovo modo di vivere e di occupazioni di spazi sociali e comportamenti da assumere per contrastare la diffusione del coronavirus. Le vie del centro e del mare cominciano a ripopolarsi da tanti sportivi, ma anche da coloro che svolgono attività motoria leggera consentita dal recente DPCM del 26 aprile scorso, che insieme al decreto esplicativo della regione affidano al cittadino la responsabilità del contenimento del contagio. Permane il divieto di assembramenti e l'obbligo di mantenere uno o due metri di distanza. I decreti emanati a livello nazionale e regionale però non sempre sono rispettati. L'uso della spiaggia è consentito solo per attività motorie e sportiva ed è anche vietato stendersi al sole o sostare lungo l'arenile o giocare sul bagnasciuga. Eh, lo so, però il mare è così affascinante, attraente, che è impossibile non fermarsi, capito? Lo sapete che... Sì, non si può. Fate una passeggiata questa macchina. Sì, facciamo una passeggiatela per far raccogliere qualche sassolino a lui. Lungo il lungomare di Sassogna sono stati diversi i controlli da parte dei militari per i trasgressori, invece gran parte dei cittadini continuano la loro quotidianità munendosi delle dovute precauzioni. Che è pericoloso sia per loro che per gli altri, perché se uno interessasse a loro stessi io penso che non sarebbe un problema, ma è il fatto che possono contagiare anche gli altri. Non rispettano neanche la distanza. Non rispettano neanche la distanza e non gliene frega niente degli altri. E sai che è pericoloso, cerchi di prevenire almeno. Non lo so, sono un po' incoscienti o probabilmente non hanno ancora capito la gravità di questo virus, penso, perché è l'unica spiegazione che mi do. Poi è vero che dà fastidio, fa caldo e tutto, però se è obbligatorio, è obbligatoria. Noi ce l'abbiamo, però vedo in giro che c'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha, c'è quello che lavora con la mascherina, quello senza. Vediamo un po' come andiamo a finire. Come le sembra i comportamenti dei cittadini? Molti sì, molti si comportano bene, c'è qualcuno invece che è un po' distratto. L'utilizzo di mascherine è importante per il contenimento del virus, lo diventano ancora di più nei luoghi chiusi, accessibili al pubblico come i negozi, sui mezzi pubblici, se non è possibile mantenere le distanze, cioè con minori o non autosufficienti. In mancanza di questi dispositivi e delle regole di distanziamento sociale, si potrebbe ricorrere a un aumento dei contagi e dunque ritornare alle misure ristrettive che potranno precludere l'impossibilità di uscire o andare al mare. E non sono ancora state stabilite le modalità con le quali verranno distribuite le 50.000 mascherine chirurgiche donate dal comune di Wolfsburg, cittadina tedesca, arrivati ieri al Cotma di Rosciano a Fano. Dopo le tante richieste di informazioni arrivati oggi in redazione, abbiamo contattato il vice sindaco con delega alla protezione civile Cristian Fanesi. L'assessore ci ha ribadito che le modalità di consegna verranno stabilite al più presto e saranno comunicate ai cittadini. Come abbiamo precisato nel servizio andato in onda nel Tg di ieri alle 20.30, tra le ipotesi c'è quella di distribuirla attraverso la protezione civile e le varie associazioni di quartiere. E mentre diverse attività hanno riaperto i battenti lunedì scorso, ancora ce ne sono tante altre che non possono riaprire. Tra questi ci sono i centri estetici che nelle Marche potranno aprire anticipatamente il 18 di maggio. Se domani ad Ancona verrà superata la simulazione delle misure di sicurezza, noi oggi abbiamo sentito due estetiste fanesi che non chiedono di confermare l'anticipo della data, bensì di sapere al più presto quali sono le linee guida da rispettare per la sicurezza dei clienti. Ovviamente noi chiediamo non la sospensione, ma l'annullamento di tutte quelle che sono le imposte, tasse, contributi eccetera, perché se no veramente ci rimane non difficile, ma impossibile ricominciare a lavorare così. A casa da marzo è senza aiuti dallo Stato. I centri estetici, chiusi da ormai due mesi, oltre all'incasso mancato, hanno dovuto far fronte alle tante spese fisse. Anche per l'estetista, infatti, così come per i parrucchieri, la riapertura dopo il blocco delle attività è ancora tutta da stabilire. Domani ad Ancona sarà effettuata una simulazione del protocollo di sicurezza in due saloni della città alla presenza di Azur e Regione. Se il test verrà superato, parrucchiere ed estetiste potrebbero riaprire il 18 maggio. È stato definito, infatti, un documento che detta le linee guida e anticipa la riapertura rispetto a quella del primo giugno indicata dal governo. Tra le disposizioni rientra l'orario flessibile, anche serale, fino alle 21.30. Si potrà lavorare solo su appuntamento e con l'obbligo di mascherina per cliente ed estetista o parrucchiere. Il personale poi dovrà dotarsi di guanti usa e getta, mascherine e camici monouso o igienizzati ogni giorno. A questi si aggiunge la sanificazione dei locali, il distanziamento tra le postazioni di lavoro e almeno 20 minuti tra un cliente e l'altro per sanificare l'ambiente e gli strumenti. Tante saranno le misure da adottare, ma ancora, a pochi giorni dalla possibile riapertura, nessuna notizia ufficiale. Quindi chiediamo con urgenza un protocollo di lavoro per farci lavorare in sicurezza. Seconda cosa, ad oggi comunque noi non abbiamo, molte di noi non hanno ancora ricevuto le 600 euro e questo per noi, comunque per chi ha una partita IVA, la riteniamo un'offesa perché sinceramente sono veramente pochissimi soldi che non ci aiutano in niente perché le spese che dobbiamo affrontare, dovremo affrontare, sono veramente altissime. Non abbiamo avuto nessun altro tipo di sostegno, cioè veniamo considerati praticamente zero. Noi abbiamo bisogno invece di liquidità, abbiamo bisogno, chiediamo praticamente un sostegno economico a fondo perduto che ci permetta di ricominciare il nostro lavoro alla riapertura in maniera tranquilla perché comunque gli affitti abbiamo continuato a vagarli, le bollette idem, le spese che comunque abbiamo sostenuto in questi due mesi di chiusura sono state tante e tutte come se avessimo lavorato ed è assurda praticamente come cosa. E mentre si attendono aiuti e regole certe, insieme ai problemi è aumentato l'abusivismo, un nero che ai tempi del covid si è mosso più indisturbato, visto che i controlli sono stati indirizzati sulle imprese per verificare le misure di sicurezza e tutelare i lavoratori. Quella che invece non è mai mancata è la solidarietà tra colleghe. Ci sono persone che veramente non avendo lavorato e non avendo un euro non sanno neanche come potersi permettere di riaprire, di acquistare semplicemente i dispositivi di sicurezza che ci saranno ovviamente imposti e che sarà giusto utilizzare, però veramente ai prezzi che abbiamo adesso tra l'altro sono folli, però ecco ci stanno questi momenti in cui magari chi ha la possibilità aiuterà la collega che magari si troverà in difficoltà e questa è una bellissima cosa. Se domani dovesse riuscire questa simulazione, gli estetisti e in questo caso fanesi saranno pronti a riaprire il 18? Non sapremo veramente come potremmo lavorare, in che condizione, ma anche semplicemente emotiva, perché insomma il nostro lavoro deve essere un lavoro bello, rilassante, dove facciamo del bene alle persone, facciamo stare bene le persone ed è brutto accoglierle come se invece fossi quasi in una struttura ospedaliera. Sì, saremo pronte sempre che troveremo tutti i dispositivi di sicurezza che ci serviranno, perché tra l'altro o sono introvabili o hanno prezzi veramente esagerati. Speriamo di essere pronte, più che altro di avere una certezza, perché ad oggi non ne abbiamo. Noi abbiamo sempre lavorato per essere pronti il 18 maggio. Lo dice all'ANSA il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che ritiene giusta la linea di differenziare le varie riaperture tra le regioni a partire dal 18 maggio. Ce ne sono alcune che non sono state toccate dalla pandemia, altre come noi che hanno una situazione diversa. La Regione Marche sta lavorando ad una serie di protocolli in collaborazione con le associazioni di categoria e con l'ASUR per riaprire in sicurezza le attività, cominciando da quelle per la cura della persona, esetiste, parrucchieri, barbieri, centri estetici e anche tatuatori. Un altro protocollo in fase di elaborazione ha fatto sapere Ceriscioli riguarda bar e ristoranti. La stagione balneare invece riaprirà il 29 di maggio. Ed ora ci spostiamo a Mondolfo, dove l'Aggiunta Barbieri ha adottato dei provvedimenti per aiutare famiglie e imprese. Allora Sindaco, buonasera. Avete varato una serie di misure per sostegno di persone e famiglie comunque in difficoltà. Quali sono queste azioni che avete messo in campo? Buonasera a voi. Abbiamo messo in campo diversi provvedimenti in attesa intanto del decreto ex aprile che dovrebbe arrivare presto dal governo centrale, però abbiamo messo in campo diversi provvedimenti. Intanto abbiamo sospeso le imposte comunali fino al 30 giugno, le avevamo sospese con un provvedimento ad aprile e poi abbiamo deciso di prorogare dal 31 maggio al 30 giugno la sospensione del pagamento delle imposte comunali. Anche l'Atari abbiamo deciso di sospenderla e quindi non si pagherà fino a settembre. Poi abbiamo fatto sì che le famiglie non dovessero pagare le rette di mensa, asilo nido e trasporto scolastico per il periodo di riferimento che va da marzo a giugno e quindi per il periodo di sospensione dell'attività. Abbiamo anche pensato alle scuole, ma in questo caso alle strutture private, quindi alla scuola dell'infanzia paritaria maestro Pieve Nerini e all'asilo nido privato. Per quanto riguarda anche i buoni spesa, ripartirà la consegna di buoni spesa ad altre famiglie che ne hanno, che sono in difficoltà per via dell'emergenza coronavirus. Questo grazie alle tante donazioni che abbiamo avuto da aziende, cittadini, anche dalla città gemellata tedesca di Ifezheim. Siamo riusciti ad arrivare a superare la cifra di 9 mila euro e con questa cifra andremo a consegnare nuovi buoni spesa a partire dalla prossima settimana. Tra l'altro sono ripartiti anche i cantieri, i cantieri pubblici nel suo comune. Sì, sono ripartite le opere pubbliche a fine aprile, siamo ripartiti con la riqualificazione del lungomare di Marotta Nord, quindi della ciclovia adriatica e i lavori termineranno nella prima metà di giugno, se tutto va bene, le condizioni meteorologiche ce lo permettono e quindi noi vogliamo essere comunque pronti per la stagione estiva con le nostre opere pubbliche. Sono ripartiti i lavori anche alla pista ciclabile che collegherà Piano Marina a Marotta Centro, sono ripartiti i lavori dell'ampliamento del cimitero comunale. A metà maggio partiremo con i lavori di adeguamento sismico della scuola Media Fermi e a breve ripartirà anche il cantiere delle RFI che purtroppo si è fermato due mesi per via dell'emergenza Covid che è il cantiere del sottopasso ciclopedonale a altezza del passaggio a livello e quello di adeguamento della stazione. Però il weekend e il fine settimana si avvia anche per voi che siete comunque una località rivirasca? Sì, fine settimana ci saranno controlli soprattutto per quanto riguarda il lungomare. Noi nella nostra ordinanza abbiamo deciso di chiudere i parchi e i giardini pubblici, quindi le forze dell'ordine si concentreranno soprattutto sul lungomare. Tutti i primi cittadini sono abbastanza preoccupati per il fine settimana. Abbiamo avuto da poco il comitato per l'ordine della sicurezza con la prefettura in videoconferenza, però ecco ci siamo, le amministrazioni comunali sono coordinate assieme alle forze dell'ordine. Un appello che facciamo tutti noi sindaci e i cittadini è quello di rispettare le regole, di indossare la mascherina, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza. Quindi noi auspichiamo che i cittadini siano responsabili anche nelle belle giornate e soprattutto in questo primo fine settimana della fase 2, diciamo. E anche il sindaco di Pesero Matteo Ricci ha fatto il punto sui lavori pubblici che sono ripartiti in città dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus. Per il cavalca ferrovia oggi è stata ristretta la carreggiata, un investimento di 430 mila euro per sistemare cordoli e parapetti. Dopo le indicazioni di ferrovie dello Stato verrà fatta la ristrutturazione completa. Per il campo di Vismare invece si prevede la riqualificazione del fondo, nuovo impianto di irrigazione, nuovo campo per allenamento. Fine lavori prevista per giugno. Ricci ha poi parlato della strada di collegamento Vismare a Cattabrighe e della nuova scuola in via La Marmora in cui sono terminati gli interni. L'obiettivo è quello di inaugurarla nel mese di luglio. Infine per il ponte in via La Marca, avanti con la demolizione, ha detto il sindaco. Poi l'arrivo del nuovo manufatto. Entro la seconda settimana di giugno la viabilità tornerà normale. Un investimento di 180 mila euro. Cambiamo argomento e parliamo di gatti randaggi. Questa sera vi facciamo ascoltare il video denuncia di un fanese che cerca di salvare questi animali anche a proprie spese, ma che segnala una situazione pericolosa per i gatti in zona Paleotta. L'uomo bacchetta in realtà il comune di Fano per come sta gestendo questo problema. Lino Balestra. Il problema del randagismo, soprattutto felino, in tempi di normale svolgimento della nostra vita sociale, è un problema, maggiormente poi ora che la nostra mobilità ai tempi del coronavirus è limitata. Problema che in parte viene mitigato grazie al prezioso lavoro di volontari che mettono a disposizione il loro tempo e spesso anche le loro risorse economiche e personali per dare assistenza a povere bestiole che altrimenti andrebbero incontro a fine certa. I volontari sono anche sentinelle dei loro quartieri, come la signora Dina di 74 anni che investe da una vita i suoi denari per i mici del quartiere della Paleotta e che conoscono anche tutte le situazioni, anche purtroppo incresciose, che si verificano sotto casa loro, come quella pubblicata sui social da un altro volontario che si occupa proprio del randagismo felino. Sono qui in via del Domenichino, zona Paleotta di Fano, dove una settimana fa, sempre con il ruolo di volontario, cioè nel senso che spendo i miei soldi e il mio tempo, e d'accordo con Asur di Fano, che non riusciva a catturarlo, sono riuscito a catturare un gattino che aveva perso un occhio. Allora, questa via è ad altissimo traffico e adesso ve la inquadro, così adesso vedo se Facebook mi fa girare l'inquadratura. Ok, questa è la via dove vedete c'è un camioncino che è l'unico riparo per i gatti, i gattini, però questo camioncino spesse volte chiaramente non c'è perché questa persona va a lavorare. Allora, questo gatto, nonostante le nostre reiterate richieste, è stato riportato questa mattina su decisione della dirigente comunale in questa via, che secondo lei dovrebbe diventare una colonia felina. Siccome è già successo svariate volte che sono stati salvati dei gatti e in gattina non c'era posto, io stesso avevo salvato una gattina che poi è finita nella statale, nonostante le mie tantissime richieste di portarla in una struttura, non vi dico come l'ho ritrovata, novembre dell'anno scorso, loro continuano nella loro politica. Al gattile di Fano non c'è mai posto e secondo la dirigente questo dovrebbe diventare una colonia felina, una zona, questa è una colonia felina a bordo strada dove tra l'altro il prossimo anno verranno fatti dei lavori, fra pochi mesi anzi, in quella palazzina lì, quindi ci sarà anche un cantiere, ecco secondo loro questo sarebbe una colonia felina, quindi noi salviamo gli animali che poi vanno a finire rimessi per strada. Questo gatto ripeto non ha un occhio e quindi non avendo praticamente un occhio, secondo loro qui non è in pericolo. Ecco qua, questa è via del Domenichino e questa è come il comune di Fano, secondo loro vogliono, ecco queste dovrebbero essere persone che tutelano gli animali, questo è il loro posto, senza camioncino, neanche un riparo per mangiare. E continuano le iniziative di solidarietà, questa mattina nella sala riunioni dell'ospedale di Urbino l'Ordine delle Professioni Infermeristiche OPI della provincia pesarese ha donato 80 saturimetri ai distretti dell'area Vasta 1. Questi strumenti utilizzati per controllare il livello di ossigeno nel sangue sono indispensabili per chi si trova in casa ad affrontare l'infezione da Covid-19 e perché sono semplici da utilizzare. Rimarremo sempre vigili ai bisogni dei cittadini, assicurato la Presidente dell'Ordine Laura Biagiotti, perché gli infermieri, ha detto, sono fieri di assistere e orgogliosi di esistere. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'informazione come sempre tornerà domani mattina, in diretta con la nostra segna stampa Occhio ai giornali. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.